Non so, non so che dire, quindi tra tutti gli altri che comunque c'è un ottimo rapporto anche di comunicazione, ma anche racconti privati, si assistono tanto con me e io con loro, ma lui, non so, con me non ha proprio nessun rapporto. Non si apre. Ok, perfetto, grazie Francesca, torno a prendere gli altri, brucia la foto. Grazie. Aspetta. Ciao a tutti. Ciao. Rosi? Ti mando l'acqua? Ah! Grazie. 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 Grazie.